Le prove delle 500 per la Suzuki sono iniziate bene per il numero 3 Nobuatsu Aoki e il numero 25 Yukio Kagayama, due piloti giapponesi. Il 24enne Kagayama non ha però concluso bene la sessione. La moto è uscita di pista e lui è caduto sulla ghiaia contro la barriera. La moto ne è uscita distrutta e il pilota si è fratturato i due polsi. È stato un momento terribile. Il pilota è stato sbalzato in avanti. È veramente un brutto incidente. Lo vediamo cadere in malo modo. Dopo il salto rotola nella ghiaia e poi fortunatamente va a sbattere contro la barriera di protezione anziché sui copertoni.